buongiorno è ancora notte infatti mi vedete un po' scura e niente facciamo il video oggi che andiamo a camminare sono le 6 e 35 si sta facendo il giorno più tardi perciò tocca andare via più tardi va bene oggi fuori un po' mezzanuro già rosso e tempo voglio vedere quanto me li lavo da sola capelli comunque la parrocchiera ha detto che i capelli si sono molto migliorati io avevo un problema non ricordo come si chiama che sta sulla testa e fa casca i capelli tra pure mia figlia quella più grande e ha risolto con rocher l'altra volta quanto mi sono fatti i capelli che mi ero fatta tagliata mentre c'è questa cosa è come una specie di forfora e adesso non mi ha detto di adesso vedete se è un po' passata perché sono alle erbe questi champi di rocher e poi mi ha detto che i capelli mi si sono migliorati tantissimo meno male meno si sono migliorati i capelli sono meno secchi e meno cose così vabbè adesso possiamo partire che andiamo a camminare ma siccome che io sono sempre da sola sto decida da arrivare i video la mattina però non ve li metto tutti i giorni perché vi metto per quell'altro video perché 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 eh così mi fate compagnia non mi facevamo una volta e vediamo comunque comunque oh io giro la ehm ehm fotocamera e facciamo un pezzetto giù insieme pensate eh sempre giorno giorno invece non è giorno è un po' notte sono le 6 e 38 non è proprio giorno come fa a vedere la fotocamera quindi c'è la fotocamera per far vedere che più giorno non è che si appanna niente che si deve mettere a fuoco se vede però non so ecco doveva mettere a fuoco l'immagine allora adesso andiamo giù a Cività a camminare sempre io ce l'ho da tutti i giorni due giorni non ci sono andata non riuscivo più a camminare ieri sono rindata dopo due giorni che non camminavo e oggi mi sento meglio non so perché se non vado a camminare sto proprio male non lo so perché ah quando vengono l'immagine si fa o paga o non lo so perché che si deve mettere a fuoco la fotocamera che bello quando non c'è nessuno che fa in macchina non c'è persone traffico roba così si va benissimo in giro invece quando c'è le macchine c'è la fila c'è roba così e arrivata e adesso andiamo mi sono portata la febbra però giocando stiamo a 14 gradi però non sta giocando e già si stanno a fa io ci siamo più lisci oggi è già 13 questo qua non lo so perché è corto così e poi vabbè vediamo un po' ma dicembre non è fa speriamo che pensano bene ricci perché ho detto ma io non mi faccio la piastra perché sennò si rovino i capelli andiamo a camminare scendere ecco andiamo a camminare andate attaccate perchè ci saranno i bughe vedete sono tutte un po' bughe andate attento certo non vi faccio vedere tutto il tempo perchè faccio un'ora faccio mezz'ora per andare su perchè questo non è un giro devi andare dritta mi hai perso fabbrica poche parole cività questa sarebbe la strada per andare a fabbrica cioè pure con la macchina se no basta partire là però ora per esempio è salita c'è un po di salita allora vai su tante volte 30 minuti tante volte 40 minuti poi arrivi ancora giù infatti tante volte di soli faccio un'ora e venti un'ora e trenta dipende quanto tempo faccio non faccio mezz'ora però il soli faccio sempre 33 35 minuti allora ci vuole di più di un'ora avevo bloccato un attimo perché sarà per il giorno io conosco tutti qua che vengono tutte partite a camminare giusto qualche volta c'ho da fa allora non ci vengo però il solio vengo sempre perché da fare non ce l'ho quasi mai che tante volte sono andata le parti che mi chiamano allora non da vabbè comunque questo camminare il 28 che oggi è 14 14 15 non ricordo oggi è 15 su davide sul telefono dei giorni oggi è 15 questo uscirà per il 16 penso sì e vabbè ma cercherò da fare più video così quando ho da fare e escono sempre perché non so ci avevi tanto caso un giorno non è uscito perché non avevo fatto il tempo a registrare e allora non so allora l'avevo registrato sì però non avevo modificato non l'avevo preparato il video per metterlo su youtube l'avevo solo registrato ok e allora cercherò da farli di più stavo dicendo che cercherò da farli di più perché così vi metto uno al giorno però se tante volte non lo vedete perché proprio non sono riuscita a o a registrare o a a modificarlo perché dopo di modificarlo mettiamo su computer se ci vuole più tempo quello che è registrare ovviamente va bene comunque perché tante volte io da fare che mi chiamano di andare nei posti e allora non riesco comunque che qua faccio solo per divertimento perciò per questo motivo se mi chiamano non riesco a farli però le soli non mi chiamano mai però non si sa mai e va bene comunque adesso stiamo capitando non lo so se mi sono riuscita aspetta si sa dito lì ma se so così oggi non mi sono messa a felpa mi sono caduto mi sono così insomma andiamo fin l'ultima volta che era sono andata a pesarmi mi ricordo neanche quel giorno era la fine di agosto pesava ho buttato via 10 kg ora vediamo adesso comunque ho rimangato la pizza però pure quella senza glutine e senza lattosio non mi ha fatto proprio male male come quell'altra normale però c'era il pomodoro perciò mi ha fatto un po' di pesantezza allo stomaco quello mi ha fatto mi ha fatto un po' di pesante e ogni tanto una volta al mese così mi mangiano una pizza perchè non mi attira più come mi attirava prima non lo so vabbè comunque ci vediamo dopo perchè prima cosa vado a camminare più veloce cammino perchè il telefono lo metto qua dentro e seconda cosa non posso stare ore 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 a far via dopo è lunghissimo ma dopo è troppo lungo lo do tagliare perciò lo faccio più corto così non taglio perchè dopo se è troppo lungo tante volte mi è successo un'ora un'ora e mezza l'ho allevato fino a 6 minuti 10 minuti 15 eh vabbè comunque per ora vi lascio quando arrivo giù ci risentiamo ciao ok io ho finito da camminare quasi e sono quasi arrivato la macchina e vado a casa non so se faccio un vlog tutta la giornata vi faccio vedere cosa mangia tutto quanto e lo faccio tra un po' qui e un po' sulla fotocamera di casa e la fotocamera beh allora ci metto con la personale che mi ha fatto per i carrieri e così vede tutto quello che mangio oggi e la roba così mangio mangio di vita io e così vedete cosa mangio o roba così lo vedo così lo modifico stasera altrimenti se faccio il tempo per stasera per domani lo carico domani tanto lo vedete domani voi e va bene e adesso vi lascio un attimo perché o se no faccio finisco qui questo e faccio un video che mangio a casa così lo vedete perché non penso che il telefono riesce a reggere tutta la giornata boh va bene troppo lungo dopo il video e dopo dovrò spezzare uguale perché una volta l'ho fatto e l'ho dovuto spezzare ho dovuto levare i pezzi che mangiavo perché era troppo lungo il video perciò adesso siamo arrivati giù la macchina quasi e dopo ci salutiamo dentro la macchina e il video continuerà con da mangiare e il prossimo giorno faccio vedere solo quello che mangio soltanto la giornata ok adesso andiamo giù la macchina e ci vediamo dopo ciao ecco siamo arrivati e attraversiamo la ferrovia ecco adesso apro la macchina e ci salutiamo ecco sono arrivata qua la macchina adesso facciamo gli ultimi saluti e continuo il video domani vedete che mangio il pezzo che mangio ma niente lo faccio se vi piace lo faccio spesso se vi ripiace però non lo faccio a mezzogiorno lo faccio lo metto sempre alle 18 perché sempre orari così ogni video al giorno e questi sono colpi di sole che mi semplano mi semplano mi semplano mi semplano mi semplano un quintale di racca di capelli secchi sempre purtroppo so bere riscia ma qua già mi sono sorricciati a me non mi reggono i capelli e quando mi davo fra due ragioni mi ridavo perché si è sporco io sudo e insomma va bene se vi piacciono che vi faccio i video questi qua così e da da mangiare me lo dite qua sotto io sono felice poi li faccio quale perché la mia vita è questa però se voglio sapere se vi piacciono questi di produzione di video e poi farò pure per il tempo di pulizia perché per fare il video di pulizia ci vuole perché il conto può dire da sola così un conto prendere proprio la fotocamera preparare tutte queste cose qua ci vuole un pochettino di più va bene io adesso vi lascio perché finito per questo video e ciao al prossimo video ciao